Il tappeto è l'ultima opera di Alighiero Boetti, è stata eseguita a partire dalla fine del 1993 e terminata dopo la morte dell'artista nel 1994. Per Boetti questo tappeto è una sorta di testamento realizzato per i suoi familiari in diverse versioni e come nella tradizione dei tappeti persiani, dentro questo tappeto c'è l'universo. La cornice di questo tappeto ha diverse bordure, tutte quante rimandano alla sua opera. Ritroviamo le scimmie che saltano da un ramo all'altro e la scritta in farsi, i sassi che erano presenti nelle sue opere degli anni 60 e poi il motivo delle rane. All'interno invece del riquadro centrale corre un asse verticale su cui ritroviamo tutti gli elementi della sua vita. Ad aprire quest'asse c'è un gioco di suo figlio che in quel momento ha un anno, Giordano, un piccolo albero con dei frutti rossi. Vedremo una piccola indicazione scritta. Queste scritte provengono proprio dagli ultimi mesi della vita dell'artista e sono iscritte in un cartoncino non disturbare per gli alberghi. A seguire troviamo la custodia di un pettine, un coltello per lavorare la plastilina, tutti oggetti normalmente presenti nello studio dell'artista. Quasi al centro la custodia del violino della madre con queste piccole frecce che in realtà sono le chiavi per accordarlo. E poi troviamo un tappeto dentro il tappeto, questa riproduzione delle croci bianche che erano presenti nella collezione di tappeti persiani di Boetti. E a seguire lo stemma di famiglia, è un stemma piemontese che è affiancato da due profili presi dall'alto di frutti di caco. Poi abbiamo un portacamice, una treccia che è probabilmente una sorta di pegno d'amore, il profilo dell'amato Afghanistan riportato con la bandiera pre-invasione russa, quindi abbiamo la mezzaluna. Di nuovo una confezione aperta a righe, questa volta una confezione di foie gras particolarmente amata e appunto poi l'asse si chiude con di nuovo un gioco di Giordano, Boetti, quindi la macchina. Al centro della composizione corre un filo che è diverso in ogni tappeto perché l'artista ha chiesto al maestro tappetaio di lanciare questa corda, che è uno spago, sul cartone preparatorio prima di iniziare a realizzarlo. E quindi è il caso che entra nell'ordine della sua vita ed è una cosa che l'artista non poteva controllare, quindi è anche un'accettazione del disordine.